Elezioni comunali 2015, siamo nella sede di Casa Pound che ha presentato oggi il programma e la lista. Cosa succederà per quanto riguarda Casa Pound alle elezioni comunali di maggio? Noi oggi abbiamo ufficialmente piantato un paleto. Diciamo alle elezioni comunali 2015 ci sarà Casa Pound con il proprio simbolo e una propria lista. Il nostro scopo è di portare all'interno del Consiglio Comunale e dei Consigli di Circoscrizione la nostra voce e i nostri rappresentanti. Diciamo anche chi sono i vostri candidati? I nostri candidati, la nostra lista verrà presentata in un secondo momento e comunque la lista di Casa Pound sarà composta esclusivamente da persone e militanti del nostro movimento. Persone di età molto giovane, non con precedenti politici di amministrazioni o vecchi rottami che si ripresentano e si riciclano all'interno di qualche lista. Per quanto riguarda il candidato sindaco, al momento noi abbiamo un nome per un nostro candidato sindaco che non facciamo volutamente perché siamo disponibili a confrontarci con quelle forze politiche o movimenti di opinione che in questo periodo potrebbero presentare un candidato sindaco che noi potremmo decidere o loro potrebbero decidere di chiedere il nostro appoggio. L'importante è che il nostro programma che si rifà ovviamente come a livello nazionale noi teniamo molto a uno stato sociale, la stessa cosa lo teniamo per quanto riguarda il programma locale comunale e questo eventuale candidato sindaco comune dovrà far suo i punti salienti e i punti principali del nostro programma. Proprio per quanto riguarda il candidato sindaco a notizia di ieri della probabile discesa in campo di Bizzo, la vostra opinione in merito? Beh la nostra opinione è proprio un teatrino, diciamo che Bizzo anche se non lo conosco personalmente però per quello che leggi sui giornali è una persona che insomma è una figura, io direi una mezza figura, cioè ha un trascorso in consiglio provinciale e anche un percorso attuale in consiglio provinciale che è pari a zero ma a detta dei suoi anche non ha combinato niente. Probabilmente vede che fra due anni, due anni e mezzo il suo mandato finirà, già questo mandato l'ha conquistato con le unghie, con i denti e con gli avvocati e probabilmente vista l'età sta cercando gli ultimi cinque anni per trovarsi poi una professione che lo porti sereno alla pensione. E sulla possibilità che Spagnoli, sempre notizia di ieri, riscenda in campo per il terzo mandato? Beh oddio, questo si poteva immaginare, è un momento in cui non è che la parte politica che Spagnoli rappresenta abbia dei gran nomi presentabili dal punto di vista di personaggi che hanno fatto politica in quell'area abbiamo una sequela di vitalizi e di comportamento che sicuramente non potrebbe attrarre chissà quanti elettori. Perciò Spagnoli si fa forte del fatto di essere lì e dice vabbè dai ho galleggiato però per due mandati riesco forse a fare anche il terzo. Benissimo, grazie mille. Grazie mille. Grazie.